suoni nuovi il suono della nuova musica conduce in studio giomba amiche ed amici di suoni nuovi ben ritrovati insieme io sono giomba questo è suoni nuovi il suono della nuova musica il format che vi porta alla scoperta della nuova scena musicale emergente scopriremo tanti artisti tanta musica che davvero vale la pena di essere scoperta e conosciuta ma scopriremo anche tanti aneddoti e tante storie che davvero valgono la pena di essere raccontate e sono certo del fatto che tra queste voci si nasconda la voce di un futuro ma neanche troppo lontano vi ricordo che suoni nuovi penonda anche su radio in diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 ovviamente su www.indiffusione.com salutiamo gli amici e tutta la community di radio in diffusione e ricordiamo che in diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente che offre agli artisti strumenti per creare distribuire e promuovere la propria musica perché lo sapete lo dico sempre in diffusione è generatore di opportunità e come dico sempre diamo voce alle nuove voci suoni nuovi bene 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 cari amici iniziamo subito la nostra puntata e lo facciamo con il nostro primo ospite il benvenuto a nicolas ciao nicolas benvenuto a suoni nuovi ciao a te come stai tutto bene grazie tutto bene reduce da da una pasqua e pasquetta abbastanza discutibile di brutto tempo vento pioggia e tutto quello che è possibile però dai siamo qua a poterlo raccontare insomma dalla tua pasqua e pasquetta come è andata tutto bene la mia è andata bene fino a piena di sole forse fin sotto perché ho rischiato quasi di bruciarmi io sono di milano a ieri c'era un sole che spaccava le pietre quindi stavo quasi per bruciare artista flambè quindi potrebbe potrebbe essere una un'opzione interessante ovviamente avete capito insomma che con nicolas parleremo un pochino insomma non soltanto delle di tutto il suo percorso artistico logicamente parleremo anche proprio del suo terzo singolo che si chiama se manchi logicamente per in diffusione tra l'altro fammi salutare la community di in diffusione come sapete ovviamente la puntata va in onda anche lì e fammi salutare chiaramente ad il a tutti i ragazzi insomma come sempre fammi mandare un ringraziamento un saluto anche perché se no questa intervista non avrebbe potuto avere vita ecco però prima di cominciare nicolas vorrei fare la domanda di rito che faccio un po' a tutti gli artisti e voglio anche iniziare con te proprio in questa maniera tu ovviamente sei giovine giovine classe 98 mi piace ho letto una cosa nelle tue note che mi piace particolarmente all'età di 12 anni dopo aver visto il festival di sanremo scrive la sua prima canzone da lì non ha più smesso è questo diciamo l'inizio l'entrata nel mondo della musica coincide con questa esperienza all'età di 12 anni maturava già da prima raccontaci un po' in realtà è proprio è proprio questo nel senso che quando avevo 12 anni io ascoltavo già musica però non avevo tutto l'interesse che poi negli anni sei andato a creare l'unico della famiglia veramente appassionato era mio zio e appunto all'età di 12 anni mi ha praticamente obbligato a guardare con lui il festival di sanremo e io ne sono rimasto colpitissimo i cantanti le emozioni che trasmettevano a me mi hanno colpito fin da subito e mi ricordo che tra me a me dicevo voglio fare anch'io questa cosa voglio anch'io trasmettere queste emozioni e caso vuole che in casa avevo una chitarra anche mezza scortata mezza rota io non sapevo neanche suonare però distinto finito il festival l'ho presa e ho iniziato a scrivere da lì praticamente non ho veramente più smesso nel senso che poi recentemente mi è capitato quasi per scherzo di contare tutti i brani che da quando avevo 12 anni ad oggi ho scritto e superiamo quasi l'ottantina quindi col festival per me è stato diciamo un colpo di funne tra l'altro mentre tu raccontavi riflettevo un po su quell'edizione del festival che fu ovviamente essendo tu del 98 12 anni fu quella del 2010 dove vinse Valerio Scano ma fu tra l'altro una tra tra le annate del festival più esplosivi in assoluto perché successe tutto quel delirio con Pupo, De Manuele e Filiberto che hanno tirato gli spartiti per aria un disastro un delirio è stato una probabilmente anche quello che mi ha colpito una tra le edizioni più movimentate in assoluto poi era riduce diciamo dai primi anni di Italia c'era Valerio Scano altri artisti provenienti dai talent ed erano i primi anni per il festival diciamo in cui si accoglievano artisti che arrivavano da quei mondi però è stato veramente qualcosa che che ringrazio tutt'oggi altrimenti non so come sarebbe andata la mia carriera musicale senza senza quel festival. Assolutamente anche perché ripeto è stata sicuramente una sorta di entrata gamba tesa nel mondo musicale però logicamente davvero assegnato l'inizio poi di questa tua carriera che poi in realtà non si è più fermata e appunto dopo le lezioni di chitarra arrivano le lezioni di canto recentemente ho letto anche le lezioni di pianoforte e nel 2017 leggo che formi una cover band raccontaci un po' di quell'esperienza com'è nata l'idea insomma raccontaci proprio di quella cover band raccontaci un po' allora la questa cover band è nata da me e un mio amico inizialmente eravamo solo e lui che trovavamo tutti i giorni in camera avevamo questa camera mia tutti i giorni ci trovavamo passavamo il pomeriggio a volte anche la notte e suonavamo senza diciamo un obiettivo preciso un giorno ci siamo guardati agli occhi abbiamo detto cerchiamo di farne qualcosa di più che una una passione allora abbiamo deciso di creare una vera e propria band siamo arrivati a sei membri diciamo che poi col passare del tempo come hai detto tu era una cover band io mi sono accorto la mia urgenza era quella di far ascoltare i miei brani io dico sempre che nasco come autore prima di tutto e sentivo l'urgenza di mettere al centro i miei brani quindi dopo un paio di anni di esperienza appunto con questa band che mi è servito tantissimo abbiamo fatto diversi live sia a crema che a milano ho deciso diciamo di farmi da parte e di concentrarmi su me stesso mettendo al centro quelli che sono appunto i miei brani e da lì poi è proseguito il mio percorso artistico e tra l'altro leggo che poi ti sei messo in gioco anche in alcuni contest come il Tour Music Fest che torna spessissimo nelle nostre puntate dopodiché nel 2019 inizia il tuo percorso da solista che cosa è maturato nel senso perché poi hai fatto la scelta e il balzo proprio di iniziare una carriera da solo sicuramente come dicevi tu mettere al centro la tua musica le tue emozioni le tue canzoni però diciamo cosa ti è maturato alla fine cosa è successo tale per cui hai detto no basta adesso vado per la mia strada allora diciamo che c'era questa urgenza proprio forte appunto dal 2017 in poi di far ascoltare i miei brani come ti ho detto prima quasi scherzando ho più di 80 brani e io scrivo perché mi viene da scrivere non per far diciamo sentire le cose da altri però dopo un po' di tempo ti guardi un po' allo specchio e ti dici ma cosa ne faccio con questi brani cioè io comunque ho una dose a me una cosa viene bene nella vita che è quella di scrivere è proprio una cosa naturale e da lì ho sentito questa urgenza di cercare di far ascoltare i miei brani ti dico la verità c'è stato anche un momento in realtà poco prima di entrare in diffusione in cui in realtà ho pensato di mettere tutto da parte nel senso che ho cercato per molto tempo di far conoscere i miei brani e purtroppo questo non è diciamo un mondo semplice io ho avuto la fortuna di diciamo conoscere Francesco Tosoni mi sono piaciuti i miei brani e lui poi ha iniziato quello che in realtà penso sia il mio vero percorso artistico quindi diciamo che è stato un percorso un po' di altri passi però alla fine è sicuramente un percorso positivo assolutamente anzi fammi proprio salutare Francesco ovviamente che è sempre tanto davvero disponibile ad ascoltarci e davvero è sempre un piacere poter collaborare con lui dimmi una cosa come è avvenuto il tuo incontro con in diffusione? com'è entrata in diffusione nella tua vita? cosa è successo? questo incontro al vertice come è avvenuto? allora come ti dicevo prima era un periodo in cui in realtà stavo pensando di accantonare tutto anche perché in quel periodo ho iniziato l'università quindi gestire due cose di un certo peso non era per niente semplice e una sera quasi per caso diciamo girando nel mondo di internet mi è apparsa la pagina in diffusione in cui appunto c'era scritto di proporre i propri brani avevo la chiamata dietro ho scaricato un po' di brani e li ho inviati in diffusione quasi subito un paio di giorni dopo mi è arrivata questa mail mi pare da Francesco in cui diceva che appunto era rimasto colpito dal mio modo di scrivere da alcuni brani che voleva diciamo sentirmi e vedermi ti dico la verità per un po' ho pensato fosse uno scherzo ho pensato qua c'è un inganno invece poi ci siamo sentiti Francesco è una persona veramente d'oro disponibile assolutamente e quindi appunto con lui poi ho iniziato questo percorso ormai due anni e mezzo fa proprio nel momento quasi più buio e da lì però poi è andato tutto benissimo e proprio per in diffusione da marzo 2021 entri nella community e pubblichi i tuoi primi due singoli Parole Poco Libere e Stella Cadente raccontaci un po' di questi due singoli cosa raccontavano e cosa soprattutto volevi comunicare e fare arrivare sia con Parole Poco Libere che con Stella Cadente sono entrambi due brani molto diversi e lo sono poi anche diciamo in relazione un po' alla canzone che è uscita adesso e sono diversi perché Parole Poco Libere mette in evidenza un po' con Parole Poco Libere volevo mettere in evidenza un certo tipo di sonorità un certo tipo di musica di testo e ci sono riuscito e Parole Poco Libere parla di una persona che è fortemente indecisa che non sa quello che vuole da se stessa e neanche diciamo dagli altri e l'invito in questo caso è quello di aprirsi di mettersi a nudo soprattutto con se stessi che forse è poi la cosa più difficile e di accettarsi di accettare anche diciamo quelle risposte negative che a volte ci diamo noi stessi ma che a volte neanche vogliamo sentire quindi diciamo che Parole Poco Libere vuole mettere in evidenza un certo tipo di musicalità Stella Cadente invece punta di più sulla profondità del testo è un brano a cui io tengo tantissimo parla di una persona molto piccola di età di un bambino che affronta delle difficoltà più grandi rispetto a quelle che un bambino normalmente dovrebbe affrontare diciamo il tutto visto con i miei occhi mi ha fatto sentire a mia volta ancora più piccolo di lui quindi il messaggio in questo caso è quello che spesso quasi tutti i giorni noi pensiamo di avere problemi insommortabili che non che non si possono superare però non è così perché c'è sempre qualcuno che affronta difficoltà che sono molto più grandi delle delle nostre e se un bambino diciamo riesce a fare tutto questo da solo possiamo farlo anche noi quindi questo è un po' il messaggio e la storia di questi due brani insomma davvero fa molto molto riflettere così come ed era qui che volevo arrivare mi ha veramente tanto affascinato adesso chiederò a te di raccontarci la storia che c'è dietro il tuo terzo singolo ovviamente sempre per indiffusione se manchi che ricordiamo dal 14 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali io ho letto l'abstract che c'è dietro se manchi però vorrei che lo raccontassi tu perché mi ha colpito particolarmente e vabbè non lo nascondo nel senso che io da da personaggio pubblico avendo una vita comunque pubblica sui social insomma non ho mai fatto segreto ecco del del fatto che proprio ciò che viene raccontato in se manchi mi colpisce e impatta su di me particolarmente però vorrei che fossi tu a raccontarmi e raccontarci di se manchi e della sua storia che io ho trovato veramente meravigliosa allora un anno un anno e mezzo fa praticamente una sera mi trovavo in macchina con una persona e stavamo parlando del del più e del meno durante questa chiacchierata questa persona ha iniziato a raccontarmi di una sua vecchia fiamma il suo amore è passato è finito anni prima ma che nonostante fosse appunto passato era ancora molto presente nei suoi occhi nella sua memoria nei suoi ricordi e diciamo che io poi mi lascio molto trascinare da da queste cose e il giorno dopo aver ascoltato questa storia stavo andando a fare la spesa ero in macchina e mi ricordo che c'era la radio accesa una certa ho abbassato automaticamente mi è venuto distinto abbassare la radio perché sentivo in testa una melodia forte cioè come se avesse un volume fortissimo e ho iniziato a canticchiare questa melodia e io spesso come dire capisco subito se una cosa può funzionare oppure no e a me ha colpito subito anche questa melodia a tal punto di dire torno indietro torno in studio e mi metto a suonare così ho fatto sono andato in studio e nel giro di due ore che è una cosa che non mi capita mai ho scritto il brano e e quindi penso che nel momento in cui un brano nasca in questo modo la sua essenza sia veramente forte io ci tengo particolarmente a questo brano per diciamo tanti motivi e uno tra questi è proprio il fatto che è nato nel giro di un paio d'ore praticamente ed è quasi un anno un anno e mezzo da quando appunto l'ho scritto che io tutti i giorni almeno una volta al giorno mi metto ad ascoltarlo io non faccio mai questa cosa non lo faccio né con le mie canzoni né con quelle di altri artisti però sento proprio come dire la voglia di almeno una volta al giorno di mettermi lì e ascoltare questo brano vedi nicolas ci sono situazioni io è una cosa che ripeto tantissime volte l'ho ripetuta in tutte le puntate io ti parlo ancora prima che da speaker veramente da cantautore ci sono emozioni situazioni che ti portano quasi a dei passaggi obbligati senti talmente forte a me è capitato tante volte senti talmente forte dentro di te l'appartenenza ad una storia ad un vissuto che se ti metti davanti ad un computer davanti ad un pianoforte davanti a una chitarra nasce da sé ma lo senti talmente tanto tuo talmente tanto appiccicato su di te che davvero nasce da sé è successo a te con se manchi è successo tante volte a me con brani che ho composto con brani che ho scritto anche testi che ho scritto quindi ti capisco particolarmente ed è proprio la classica non la voglio neanche definire illuminazione non la voglio neanche definire così folgorazione ma veramente quella fiamma che tu dici cavolo ma veramente è cuscita su di me insomma si a volte come se ti mettessi al pianoforte alla chitarra anche solo davanti al cellulare a registrare tutto quello che esce esce da solo tu sei solo un tramite e questa cosa è interessante perché appunto tu rimani colpito che la dico io io sono rimasto colpito che l'ha detta in una sua recente intervista ultimo però è una cosa in cui ci si riprova perché dici cavolo mi è capitato anche a me e a quanto pare non siamo gli unici però è veramente diciamo bella questa cosa di sentirsi un po' di essere un po' un tramite perché alla fine è la verità si ti metti a scrivere e a volte sembra che quello che scriva la penna in realtà lo faccia da sola però siamo noi a farlo anche se a volte non ci sembra assolutamente assolutamente veramente concordo tanto soprattutto con questo bel concetto di tramite concordo davvero tanto nicolas siamo quasi in conclusione io ovviamente ti ringrazio per questa bella chiacchierata così al solito in maniera molto informale qualche spoiler qualche aggiornamento che cosa bolle in pentola cosa ci aspetta nel prossimo futuro progetti idee insomma dici un po' allora io sono molto contento di quello che sto per dirti e ti spiego anche il perché questa domanda mi è stata fatta già nelle scorse interviste per gli altri brani diciamo che quando mi veniva fatta in quel momento non avevo un'idea precisa di cosa rispondere sono contento perché in realtà adesso ce l'ho e ti dico per quello che posso dirti c'è già un progetto in mente che avrà diciamo vita fra un po' di tempo quindi ci vuole molta pazienza però mi ero promesso di iniziare a lavorare a questo progetto dopo l'uscita di Stenanchi non ce l'ho fatta sono già praticamente due mesi che sto lavorando anche a questo nuovo progetto quindi dico solamente che ci vorrà un bel po' di pazienza però c'è c'è qualcosa di molto bello più volentemente ecco c'è della carne al fuoco insomma questo davvero ci fa tanto piacere allora grazie veramente ancora a Nicolás per questa bella chiacchierata che ci siamo fatti insieme prima di concludere ricordaci dove ti possiamo ascoltare mi potete ascoltare su YouTube su Spotify e poi potete ascoltare i miei brani sui social network potete trovarmi su Instagram al nome di Nicolás Marconcini e ormai sono giunto anch'io su TikTok ho ceduto quindi ci sono anche lì degli spezzoni dei miei brani e mi trovate con il nome di Nicolás Fossi c'è là va bene grazie grazie davvero tanto e ovviamente prima di concludere fammi nuovamente ringraziare in diffusione ovviamente nelle persone di a dire Francesco che saluto e un saluto chiaramente lo faccio alla community ricordandovi sempre che in diffusione è generatore di opportunità e naturalmente vi ricordo Nicolás con se manchi suoni nuovi bene bene cari amici continuiamo la nostra trasmissione e lo facciamo con una band palermitana do il benvenuto agli State of Neptune nella persona di Francesco ciao Francesco benvenuto a suoni nuovi ciao ciao grazie per averci invitato grazie grazie a te ovviamente io salutando te saluto ovviamente l'intera formazione quindi ricordiamo Francesco Dalia chitarra e voce Elia Franzella basso Manfredi mansueto batteria ho sbagliato qualcosa ho detto tutto perfetto giusto? assolutamente perfettissimo oh che bello che bello allora caro Francesco a me fa sempre piacere avere delle band ospiti perché mi mi danno la possibilità anche proprio di raccontare questa questo macro mondo questo mondo enorme gigantesco bellissimo che è quello delle band voi vi siete formati a cavallo tra il 17 e il 18 a Palermo e dalle note leggevo che inizialmente eravate un duo poi siete diventati un trio raccontami com'è nata la band come mai questo passaggio da duo a trio? allora guarda in realtà è una domanda interessante perché io e il batterista io e Manfredi venivamo da un progetto precedente che diciamo era iniziato quando avevamo più o meno 16 17 anni si era interrotto poi alcuni anni dopo che avevamo appunto appena 20 anni credo e con quel progetto lì insomma avevamo scritto le nostre prime cose avevamo fatto un po' di esperienze in giro per la città sai se poi arriva semplicemente quel momento in cui come dire ci sono alcuni che vogliono sai fare quel passo in più quindi scrivere evolversi semplicemente evolversi cercare di rendere una cosa un po' più personale un po' più seria quindi avevamo quei magari 5-6 brani scritti volevamo capire cosa farne c'era chi di noi a quel punto voleva renderle una cosa un po' più seria e chi no diciamo che poi a quel punto semplicemente le strade si sono separate e io e Manfredi abbiamo continuato e proseguito appunto per questo motivo io e lui e da qui nasce quel periodo diciamo in duo in cui inizialmente ispirandoci anche a band diciamo che più recente negli ultimi anni sono diventate molto importanti i Royal Blood non so se è presente che sono un solo battista con un battista abbiamo pensato ma sai che c'è proviamo un attimo a vedere cosa riusciamo a combinare noi due insieme da soli vediamo che ne è sì precisamente da quel momento poi in realtà sai si approda a delle sempre e poi è bello questo perché si approda poi piano piano a dove non pensavi neanche di arrivare quindi sperimentando chiusi nella sola prova per tanto tempo piano piano è venuto fuori poi quello che ad oggi è il progetto dei State of Neptune la prima canzone in assoluto che poi abbiamo scritto che è diventata poi parte di questo di questo primo disco che abbiamo pubblicato si chiama Fury e da quel momento in poi praticamente abbiamo detto ok qua abbiamo qualcosa per le mani e abbiamo fondamentalmente poi piano piano evoluto quel suono lì quella ricerca lì fino ad arrivare poi appunto prima della pandemia in cui avevamo ormai più o meno un disco di circa appunto dieci tracce che poi sono le tracce che sono diventate effettivamente palco stones sul nostro disco nel mezzo a tutto ciò noi siamo approvati approdati alla Vasto Records che è questa sala prove indipendente etichetta indipendente che c'è qui a Palermo e sostanzialmente dopo la pandemia dopo aver registrato il disco è entrato anche poi Elia nel gruppo e siamo ufficialmente poi diventati un trio perché nel frattempo il progetto si era diciamo trasformato in un trio da un punto di vista di arrangiamenti ecco cioè comprendevano sia chitarra che bassi e quindi poi Elia è entrato come bassista e la formazione diciamo attuale con la quale facciamo live questa fila ormai più di un anno comunque quindi sentendo il tuo racconto mi viene da pensare che la vostra identità artistica quindi è il risultato di un lavoro di introspezione nel senso che voi avete impiegato tanto tempo per capire che tipo di sonorità volevate portare avanti che tipo di messaggio volevate portare avanti però chiaramente credo sia come dire un percorso che avete portato avanti progressivamente ecco assolutamente tu considera che appunto diciamo noi in questo momento la nostra esistenza è stata più dentro la sala prove che fuori proprio a livello temporale in qualche modo perché sì hai ragione noi abbiamo abbiamo impiegato tantissimo tempo in qualche modo poi volontariamente nel senso che proprio c'era una ricerca anche soltanto da un punto di vista ad esempio io venivo da quel progetto lì e non ero un cantante all'epoca in cui negli ultimi anni poi ho praticamente scoperto una sorta di voce che in realtà poi ho capito dovuto in qualche modo io stesso allenare per arrivare a quello che voleva che volevo cioè quello che poi abbiamo proposto effettivamente nel disco che è un mix di influenze che va appunto dall'alternative al punk allo stoner come gruppi appunto Tool Nirvana Queen's of the Stone Age Deftones Caius e che più ne ha più una meta però sì assolutamente per noi la ricerca è stata fondamentale penso che sia in realtà come dire il passo veramente che bisogna fare come band soprattutto oggi in cui il mercato è molto saturo ed è facile poi finire per fare cose che in qualche modo semplicemente non sono come dire quelle che seriamente ti senti perché magari insegui trend insegui delle influenze in maniera troppo superficiale mentre invece scavando proprio in profondità riesci poi secondo me molto meglio a capire cosa vuoi dire prima di tutto tu e come poterlo dire agli altri ecco quindi sì assolutamente assolutamente leggevo sempre man mano che ascoltavo il tuo racconto leggevo le vostre note mi è piaciuto che tra i vostri riferimenti essenziali ho letto davvero gruppi molto importanti uno tra tutti per esempio Nirvana in che modo la musica e le sonorità di questi gruppi così importanti sono poi andati a come posso dire così a fare quella che è la vostra musica e questo tipo di ascendenze di sonorità di anche così ispirazione in che maniera vi ha formato in che maniera ha formato la vostra musica ok domanda interessante io sono dell'idea che negli ultimi 30 30 anni il rock ha avuto l'alternative la musica alternativa in generale per quanto in qualche modo appunto dopo i Nirvana sia in realtà andata via dai riflettori del mainstream la cosa che in realtà mi ha affascinato poi crescendo è stato scoprire negli anni come proprio ascoltatore tantissimi sottoboschi musicali che in realtà poi negli ultimi 30 anni la musica alternativa ha avuto e quindi in questo senso per esempio appunto band come i Nirvana i Tool i Concorde Stone Age i Daftons e tantissime altre sono per me espressione del fatto che non ci sia mai fermati capito per esempio c'è la famosa il famoso detto il rock è morto no il rock non è per niente morto assolutamente al massimo sono diventati i zombie quelli che pensano che il rock sia morto perché c'è stato c'è stato tantissimo tantissimo e questo è proprio questa cosa qui in realtà negli anni mi ha fatto pensare ma perché non provare appunto a convogliare un po' tutte queste influenze che attingono anche a elementi diversi per esempio in Nirvana appunto c'era quella onestà quell'essere molto diretti anche nel tipo di performance oppure nei Tool c'è invece quella parte molto spirituale molto cervellotica oppure nei Quincy c'è quella parte molto ardente molto quasi sessuale in qualche modo ci sono tutte queste componenti che a me risultava interessante cercare di fondere insieme in quello che poi è il progetto dei State of Nation in quella che è la nostra musica in cui io effettivamente poi se ci andiamo per etichette cerco un po' ho cercato insieme a Manfredi e adesso continuiamo a cercare insieme di mettere insieme tutte queste cose qua che per me sono stati alcuni delle vette più alte che il rock che la musica alternativa ha toccato nell'ultime decadi quindi i State of Nation diciamo in qualche modo cercano di sintetizzare questa cosa qui questa idea qui cioè che il rock ha ancora roba da dire e soprattutto ci sono delle influenze in questo senso che hanno secondo me dettato la via e che non ho visto ancora in maniera sostanziale venire proposte come sto cercando di riproporle io e di chiaramente metterci come dire un che di personale nel farlo certo arriviamo a quello di cui accennavamo all'inizio quindi il vostro primo disco Pulp of Stones che è uscito l'11 giugno 2022 lo ricordiamo su etichetta Vastor Records questo disco questo disco è il risultato proprio come dicevamo all'inizio di questo vostro lavoro di scrittura di questi testi di queste canzoni insomma che poi vanno a formare il disco stesso ma qual è l'idea dietro Pulp of Stones cosa volevate raccontare con questo disco ok dunque Pulp of Stones in qualche modo è un un riassunto di di questi primi 25 anni di vita che poi sono quelli praticamente appunto che coincidono con con l'uscita poi del disco in questo momento ne ho 26 ne ho fatti a poco ma mi interessava in realtà raccontare in qualche modo questa prima questo primo quarto diciamo di vita diciamo attraverso poi quella che è una narrazione un po' psichica all'interno del disco che si apre con Watershed e si chiude con Harry Rain Una Sunny Day che sono entrambi brani che hanno a che fare con questa immagine diciamo dell'acqua il punto è io mi sono reso conto negli anni che ero entrato in una sorta di strana condizione di apatia verso me stesso verso gli altri verso tante cose è la prima canzone che è Watershed in realtà parla proprio di questo cioè di capire di trovarsi in una condizione in cui ormai non si riesce più a distinguere tra tra le vere emozioni quelle che sia interni a noi sia quelle che si vedono ormai proiettate quotidianamente sui social e quindi c'è una richiesta insomma di di essere in qualche modo proprio sommerso dalla vita dalla dalle esperienze da qualcosa che ti risvegli da un determinato torporo che ti salvi dalle sabbie mobili insomma sì sì e per me diciamo in qualche modo è stata anche questa la sfida io a un certo punto mi sono dedicato dalla fine della pandemia in poi e anche prima la mia missione era diventata scrivere questo disco farlo perché prima di tutto dovevo dimostrare un po' qualcosa a me stesso dovevo era un sogno che avevo fin da sempre e quindi ho messo a parte davvero tante cose per poterlo fare quindi in qualche modo questa cosa riflette questo aspetto qui e il disco poi si conclude diciamo con Evirei Non e Sunny Day che rappresenta una riflessione generale sulla condizione in cui in questo momento vedo la mia vita e un po' la mia vita rispetto al mondo che si conclude con una serie di domande cioè è così che andrà c'è qualcosa che non va in me essenzialmente pal post dons nella sua le sue dieci canzoni cerca di raccontare un po' questo alcuni dilemmi un po' molto personali che però penso che possano essere in realtà estremamente condivisibili in qualche modo nella lettura tutti si possono ritrovare in qualche modo a dover ascoltare questo tipo di di condizione mentale se vuoi oltre che a volte proprio fisica quindi un po' le dipendenze un po' le manie di controllo un po' le difficoltà proprio nel nel relazionarsi in maniera sana con gli altri quindi pal post dons è questo diciamo una l'idea dell'immagine del titolo sta a simboleggiare questo ovvero un'immagine quasi impossibile nel senso che una polpa di pietre viene un po' difficile da pensare però in realtà ci sono degli elementi naturali che in qualche modo sono polpa di pietre per esempio la sabbia prima hai citato le sabbie monobili infatti è una molta azzeccato o la lava sono tutti elementi che quasi uno non ci non ci fa troppo caso ma praticamente è il tempo che trasforma tutte cose ed è molto interessante per me questa idea qui il fatto che dentro di noi ci tendiamo a diventare pietre in qualche modo sciogliere questa pietra come dico nella canzone Endolit liberarsi non uscire da questa pietra può essere penso una svolta importante per ognuno di noi combattere appunto seriamente i propri demoni ecco mi piace mi piace quando i lavori degli artisti hanno un significato così profondo e così introspettivo credo sia davvero un valore aggiunto che viene dato a delle interviste che poi raccontano davvero vedi tutto questo mondo che esce fuori davvero lo trovo molto 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 interessante assolutamente io io veramente ti voglio ringraziare ma logicamente ripeto ringraziare te e ringrazio ovviamente anche i ragazzi prima di concludere la nostra intervista work in progress prossimamente cosa accadrà cosa bolla in pentola sì certo dunque noi guarda abbiamo due videoclip in questo momento in elaborazione sono quasi in diciamo in fase di ultimazione che riguardano due brani del disco uno è Paradox e l'altro è Ambical stiamo collaborando con un videomaker da una parte e con un'animatrice dall'altra secondo me sono persone veramente di talento e non vediamo l'ora di poter ripubblicare e di poter appunto iniziare a ampliare un po' l'esperienza che per noi sono istituzioni anche in quell'ambito lì videoclip si sa che vanno molto a braccetto diciamo con la musica quindi ci sono questi videoclip in arrivo niente nel prossimo futuro sicuramente ci saranno altri live probabilmente adesso creeremo faremo una produzione fisica del disco è perché ci abbiamo anche all'anno dall'uscita all'anniversario dell'uscita quindi vogliamo preparare qualcosa di particolare abbiamo delle riprese dei tempi delle registrazioni su cui vorremmo lavorare per creare dei contenuti interessanti quasi a livello di documentario insomma però abbiamo un po' di cose e soprattutto stiamo scrivendo nuova musica abbiamo già portato in live dei nuovi brani su cui su cui stiamo lavorando veramente tanto e quindi il secondo disco è un'ipotesi molto reale molto reale che speriamo di poter fare in breve che bello che bello prima di salutarci ci ricordi dove vi possiamo ascoltare certo praticamente ovunque nel senso che siamo presenti su praticamente tutte le piattaforme digitali da Spotify Apple Music insomma quelle più conosciute ma siamo anche su YouTube chiaramente siamo sui social siamo su Bandcamp siamo praticamente ovunque come State of Neptune ci si trova fondamentalmente in qualunque ambito non si può scappare assolutamente e allora io davvero ringrazio Francesco ovviamente ringraziando lui saluto anche Elia e Manfredi e ti ricordo vi ricordo ovviamente che quando volete tornare sarete sempre i nostri meravigliosi ospiti le porte della trasmissione per voi sono sempre aperte ti ringrazio Daniele è stato un piacere per me e per i ragazzi che naturalmente ti salutano salutano tutti un abbraccio un abbraccio grande grazie mille grazie mille per l'opportunità grazie ancora a te e io vi ricordo prima di concludere il State of Neptune suoni nuovi bene cari amici è tutto anche per oggi ma prima di salutarci vi voglio ricordare se volete partecipare al programma diventate follower del mio profilo Instagram iljombagram e scrivetemi dalla posta privata per tutti i dettagli stessa cosa se siete una band o rappresentate uno più artisti siete un ufficio stampo un'etichetta discografica scrivetemi proprio dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli e prima di salutarci vi ricordo che suoni nuovi ben onda anche su Radio Indiffusione da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 ovviamente su www.indiffusione.com salutiamo gli amici e tutta la community di Radio Indiffusione e dal vostro Jomba come sempre a tutti voi un caldo saluto ciao suoni nuovi il suono della nuova musica conduce in studio Jomba